Io non vorrei parlare di Sanremo, vorrei parlare della RAI. Noi siamo in presenza palesemente da tempo di un'azienda pubblica pagata dai cittadini dal canone in decadenza tecnologica, industriale e di prodotto. L'azienda ha un padrone, il padrone dell'azienda non sono i partiti. Io non mi ritengo pro quota padrone della RAI, il padrone dell'azienda è il tesoro. Quindi credo che da lì debba venire un'iniziativa perché ci sia una governance in grado di affrontare il tema industriale. Lo dico al governo, sia chiaro che se venissero fuori delle iniziative di abbellimento e aggiustimento e poi ci trovassimo davanti una RAI che corre verso un caso all'Italia, noi non ci stiamo, quindi noi non partecipiamo. Se ci si viene con una proposta di nuova governance, con un capo azienda, con uno che ha possibilità di decidere e che affronta il caso industriale di un'azienda stracolma di risorse, stracolma di risorse industriali, culturali, e che vengono via via, dequalificate, buttate via e poi vorrei capire perché, vorrei capire perché, a cominciare dalla raccolta pubblicitaria, perché adesso la fase è finita, no? Siamo finiti in un'altra fase, no? Abbiamo cambiato governo, sì o no? Benissimo. Adesso la si affronta, questa questione. Siamo finiti in un'altra fase.